Uh, lo cane, 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 uh, lo cane Yeah, yeah! Sai che c'è un dottore che si batte per la verità? Come fa? Nessuno lo sa, il suo potere è la lealtà Se c'è un complotto presto il dottor lo rivelerà Non ci son coincidenze, solo realtà Uh, lo cane, il mio professore La cospirazione scoprirai Uh, lo cane, I just wanna fly high Gonna live forever in the sky Wow, 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 wow oh che cos'è questo youtuber elise and friends video tutto per parodiche ma cos'è sto video vediamolo un po il tempo riesce a muovere il sole che è molto più pesante non perdete dottor culo cane tutti i giorni alle 7 55 solo oh no ragionio ha cambiato voce e adesso c'è il dottor culo che è lì su ragionio oh ciao rex siamo su ragionio ma dove è andata mia sorella maria john jangela rex ah va bene ma questo non importa dobbiamo dimostrare che non siamo un cartell animato da rayo yo buttami un sosse in faccia ma io non intendeva così grande oh porca miseria ce l'abbiamo fatta adesso voglio guardarmi un po di telefono ma non è che il video l'ho finito tutti i giorni alle 7 55 solo boom rex fammi finire devo finire il video tutti i giorni alle 7 55 solo buongiorno e adesso cosa ti faccio dire tanto c'è ma adesso è importante che il personaggio dica qualcosa di interessante questo intero video si struttura su una dinamica stanislaschiana pertanto il personaggio deve dimostrare a se stesso e agli altri di avere un preciso ruolo sociale e quindi deve essere preciso organico e anche dettagliato nell'esposizione dei fatti che la vita non è nient'altro che un pendolo che oscilla tra il dolore e la noia banana una banana? ok ok 7 55 solo oh no non ho più idee per il cartone non sia no fermo non ricadere nel tunnel no laser 7 55 solo bau 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 5 solo ah 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 Supercanne magico Ma da quando è che sai volare? Bow 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 Vai vai Baby go E a sconfiggere male Baby bis Oh no, c'ho virus nel mio computer Lo tolgo subito Per in giro, per il mondo E sono le ragazze perfette E sono delle... No 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 Fatto Baby e perché? Eeeh 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 Per i bis Gooo Bene Rex Io continuo il video Maria Gianciangela Ciao ragazzi, com'è andata? Mi sta vedendo video! Che stanno sto cyborg e sto cosso verde? Che cos'è sto di un uomo? Che cos'è sto gatto? Ma perché? Che cos'è sto secchio in testa? Che cos'è sto secchio in testa? Maria Gianciangela Perché ti stai facendo investire da una macchina? Perché c'è un nuovo televisore? Perché c'è un contatore di banche? Perché c'è la radio? Perché dobbiamo fare un piaggio? Perché dobbiamo andare da mia cugina sconosciuta? Che sono sti tre demoni? Ma quante cose c'è il cratore sta mettendo chi più ne ha più ne mette per fare sta roba Solo su Elisa TV, canale 55 Ah, quindi noi non andiamo in onda su Rayo Yoh Guarda, pensavo di peggio Vabbè, creatore puoi pure smetterla di sbattere la testa sopra la cosa, la tastiera Guarda, 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 guarda Oh, senti? Oh, sì Oh, ho, ho, ho Sono percato, ma ti fai sempre a morire Oh, no, no Oh, che ridere Oh, no Oh, no, 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 no La verità come fa? Nessuno lo sa. Il suo potere è la lealtà. Se c'è un complotto presto il dottor lo rivelerà. Non ci son coincidenze, è solo realtà. Pulo cane, il mio professore, la cospirazione scoprirai. Pulo cane, I just wanna fly high, gonna live forever in the sky. Wow, 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 wow.